Ciao ragazzi, come voi sapete dal 2 al 4 ci sarà la tappa italiana della World League organizzata dalla regione Marche, la regione qui sono profondamente legato ed ogni volta che penso a questa World League penso alle volte che sono venuti a giocare. Da voi anche a peso oggi tanto per la regione, giocatore, naturalmente auguro a tutti, ai ragazzi, al Kik, al Benzini, al Torno Meglio, questa è una manifestazione che ci sono particolarmente legato per quanto dal fattore di Vinci sia da giocatore che da allenatore, in un ultimo nazionale polacca, è un torneo meraviglioso perché veramente nelle condizioni di tutte le squadre di poter far vedere quanto valgono ed è una manifestazione che naturalmente può dare alla nostra squadra la possibilità di crescere. Io faccio gli scongiuri, accettivo per voi, forza e valido. Grazie. 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 Grazie.